... Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 una volta me l'ho offerto lui e poi aveva un gelato da tre invece prende un gelato da tre con panna e... ooo aspetta ma... se lo ho offerto nel primo e nel primo e nel primo e nel primo è tanto gelato io ero... scusa ecco... se fosse possibile che si sia passata l'impresa tira alla montagna o che ce la fai? dai che ce la fai? vai a si io 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 ieri sono 10 Cigaro, più dieci. Più dieci. Giallo. Tira fuori il rosso. Tiro. Sì, no tiro. Bella. Cosa ti fai fatto? Bella. No. Felice. Aspetta, aspetta, passa. Tutte rose. Scherzo. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. grazie 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 a tutti. Grazie. 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 Grazie.